Ruccetti e gli occhietti Meno di un minuto Pff, non ti vedo rimasti Scalette Vai Dammi il zark A oh codì no ma che sei morto è giunger lo che ha preso come che succede ora? vai vai, spacca tutti vai disattiva 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 merda alla mostro grande io speravo non moria ma troppo dire come m'è mi resto? no come bravo cam Ma questi qua, come se la fa? Non lo sa schicchera Che? Qui? Attiva la silenzia di tumba, se c'è la, i cazzo E' quella, è quella, ti ho detto con la scuola Vai, mostro! Approvvigionamento in arrivo Sto cazzo de zar, che gioco è da canale? Che gioco è da canale? Che gioco è da canale questa, beh? Eheheheheheheheheh